Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Fiorello ha due figlie, Angelica e Olivia. Angelica è la figlia naturale del presentatore e della sua compagna Susanna Biondo, mentre Olivia è la figlia acquisita avuta dalla precedente relazione di Susanna. Nonostante ciò, Fiorello ha sempre considerato Olivia come una figlia a tutti gli effetti. Recentemente l'ha accompagnata nella scelta della location per il suo matrimonio imminente a Venezia con Ansperto Radice Fossati con falonieri. Olivia che ha 30 anni è sempre stata una grande sostenitrice del padre, come dimostra la sua presenza durante la finale di Sanremo 2024. È stata lei a scegliere il nome della sorella Angelica e ha deciso di seguire la sua passione per il design anziché intraprendere la carriera del padre nel mondo dello spettacolo. Attualmente lavora per il comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ma il suo ruolo non è stato specificato. A fine anno diventerà mamma e si sposerà ad ottobre con Ansperto, con cui condivide la passione per l'arte e il design. La cerimonia sarà intima e riservata, ma il regalo più grande per Olivia e Fiorello arriverà a dicembre, quando diventeranno rispettivamente madre e nonno. La famiglia si è recata insieme a Venezia per scegliere la location delle nozze, confermando il forte legame tra Fiorello e Olivia, che nonostante non sia sua figlia biologica.